Ciao e benvenuti in questa nuova lezione. Nella lezione precedente abbiamo parlato di mindset. Abbiamo visto che cos'è che ci sprona, come cambiare il nostro aspetto mentale. Però oggi dobbiamo parlare del perché si rende necessario parlare di questo tema. Il mindset infatti non è altro che quello che ci sprona, a cui ci andremo ad agganciare e ci attaccheremo proprio come delle cozze quando tutto si farà più duro. Perché se tu sei in questo corso vuoi cambiare il tuo posizionamento digitale, vuoi intraprendere un nuovo percorso di social media marketing, social media manager, chiamalo come preferisci, ma quello che dovrai andare a fare è ricrearti una sorta di posizionamento digitale o creare ex novo il tuo posizionamento digitale e dovrai appigliarti a determinate certezze per farlo. Quindi una volta che avrai fatto un esame interiore di quello che sei, di quello che vorrai fare, tu dovrai aggrapparti ad una certezza assoluta, la tua mente, il tuo assetto mentale. Perché se l'unica cosa che non vacillerà quando tu ci metterai la faccia è proprio questo. Se tu non sei concentrato qui, niente potrà concentrarsi nel tuo business. E nel posizionamento digitale è fondamentale che noi abbiamo la testa lucida. Dobbiamo essere lucidi, dobbiamo essere in grado di gestire tutte le preoccupazioni, le problematiche e i cambiamenti che ci saranno per quanto riguarda il posizionamento digitale. Cosa andremo a vedere oggi? Oggi andremo a vedere e andremo a parlare di... Faccio un bel cerchio, anche il quadrato andava bene. Ok, di pressione. Ok, la pressione, la pressione che ci viene data dai familiari, dagli amici. La pressione può essere organizzativa all'interno della nostra azienda, può essere con il nostro socio, può essere a 360 gradi su tutto. Cioè, se noi ci concentriamo capiremo che la pressione purtroppo è ovunque, ok? Andiamo a vedere il perché. Allora, se vogliamo concentrarci sugli elementi più significativi di quelli che possono darci la pressione, al primo punto abbiamo la famiglia. La famiglia, i familiari, quando intraprendiamo una nuova strada per la nostra attività professionale, molto spesso ci viene contro, ci dice ma cosa stai facendo? Ma perché stai buttando gli anni della tua vita? Perché vuoi buttare soldi nella formazione? Perché vuoi fare quello? Perché vuoi fare quello? Praticamente non sempre troviamo l'appoggio dei nostri familiari o del nostro partner o dei nostri figli, ok? Perché in questo corso abbiamo la fortuna di avere anche ultra sessantenni che vogliono ricominciare da zero e ampliare il proprio mindset. Ecco perché sei qui, perché noi riprogrammiamo completamente la tua mente e vogliamo essere partecipi di quella che è la tua crescita personale e professionale. Quindi, a tal proposito, è necessario che tu, una volta che hai iniziato questo corso, dovrai guardare perfettamente questo schema e strapparlo dalla tua testa e buttarlo via. Perché la pressione la troverai ovunque e voglio farti vedere quali sono le altre cause. Purtroppo, ma vero, spesso sono deleterei per noi. Non sempre i nostri amici capiscono cosa stiamo facendo, non sempre vedono il lato positivo. Ecco, mi capita spesso di aiutare networker e quei networker spesso si isolano per cercare di non farsi distrarre dagli amici, perché gli amici a cui magari hanno proposto l'attività la vedono come una perdita di tempo, come una perdita di soldi, ma è semplicemente perché solo il 5% degli imprenditori, soprattutto nel digitale, ottengono veramente risultati che gli cambiano la vita. Se tu vuoi essere all'interno di quel 5%, devi leggere il tuo schema, devi fare tutto quello che ti dico in questo corso, perché se tu metti in pratica sempre tutti i capitoli di cui andremo a parlare, ti garantisco i risultati. Però devi fare esattamente quello che ti dico nel corso. Senza scuse, senza impedimenti, devi cercare di concentrarti e per concentrarti tu devi liberarti della pressione e concentrare il tuo mindset all'interno di questa nuova attività. di questo nuovo corso. Inoltre la pressione può essere esterna, come in questo caso, amici, no? Esterna o interna. Ok? Adesso voglio spiegarti il motivo. Allora, per pressione esterna, possiamo collocare effettivamente la famiglia, gli amici, possiamo anche inserire magari alcuni conoscenti, oppure altre persone di cui magari ci fidiamo, ma che non sono né nella cerchia degli amici stretti, né nella cerchia dei familiari, ma sono magari persone competenti che dall'esterno ti dicono, anche un coach potrebbe essere, un mentore, a cui tu proponi l'attività o questo nuovo percorso che vuoi intraprendere, e magari ti dice guarda, non mi piace questo business, ma tu, se non lo provi su di te, su te stesso, tu non puoi sapere se quella è un'attività per te o no. Non c'entra truffa, non c'entra fuffa, c'entra è giusta per te. Non sempre le attività che vedi online sono giuste per te che stai guardando questo corso. Tu devi provare su te stesso quello di cui stiamo parlando, quello di cui stai studiando, perché altrimenti non lo capirai mai. La pressione interna. La pressione interna per chi studia social media marketing potrebbe essere il cambiamento costante delle piattaforme, perché i social cambiano continuamente, perché ci sono cambiamenti di algoritmo costanti, ci sono cambiamenti di qualsiasi genere, cambiano i motori di ricerca, cambiano i costi per click, quindi devi proporre al cliente un nuovo prezzo e fargli capire che effettivamente è cambiato tutto il sistema, quindi tu devi pagare il corso di aggiornamento, fare quello, fare quello, fare quello, e alla fine non sempre il cliente finale capisce. Ma devi essere bravo e noi ti guideremo infatti in questo corso a capire come liberarti della mentalità tra virgolette da loser che avevi o meglio da persona preoccupata e legata magari a quelli che possono essere i paradigmi del fallimento a essere una persona che rischia ma rischi per te stesso, perché io ti garantisco che una volta che tu ci provi e tu vuoi diventare una vera e propria leggenda nel digitale, quel cambiamento avviene, ma avviene non per quello che promuovi, ma per chi sei tu che promuovi a 360 gradi e con tutta la forza che hai in corpo la determinata attività o quel determinato business. Quindi, una volta che abbiamo parlato della pressione e di come liberarcene, penso che posso lasciarti tranquillamente, ma prima di tutto voglio anche introdurre un altro concetto. Anzi, voglio affrontare con te questo concetto e lo faccio proprio in questa lezione. Legato all'argomento della pressione c'è un nuovo tema. Ti ho parlato prima di alcuni networker, no? Che seguo che spesso sono costretti a isolarsi per cercare di portare avanti quella che è la loro attività. Ed è vero, perché la risposta alla pressione spesso è l'isolamento. Isolarsi non è una cosa brutta se si tratta di ottenere risultati. Io non la consiglio, soprattutto se devi studiare. Se vuoi avere risultati in breve tempo, tu devi concentrarti, devi chiudere, devi isolarti dalle distrazioni e dire non ci sono per nessuno, devo studiare questo corso, devo metterlo in pratica, devo avere risultati. Devi farlo. Devi farlo almeno finché questo corso non ti entrerà bene nella mente. Perché la legge, diciamo, dell'immersione vuole che se tu non studi una lezione almeno cinque volte non otterrà i risultati. Quindi devi, bene o male, ascoltarla tante volte, metterla in pratica e poi cominciare ad avere risultati. Ma se tu non ascolti tante volte, non la comprendi fino in fondo e non metti in pratica poi quello che hai studiato, non puoi avere risultati. Quindi mi raccomando, liberati della pressione anche grazie all'isolamento. Se vedi che la pressione è troppa e inizi ad impazzire, ok? Quindi la famiglia parla, gli amici parlano e ti creano tantissima confusione. Sembra uno scalabocchio perché lo è. Sono le idee che avremo noi quando entreremo nel loop della pressione, ok? Quindi sarà necessario assolutamente isolarsi. Con questa lezione è terminata, ci vediamo al prossimo video.